buongiorno a tutti ragazzi io sono sarah e bentornati sul mio canale oggi sono qui con il mio fedele computer perché stiamo per fare un altro video della serie a cui stiamo insieme su amazon a tema però halloween ottobre quindi sarà potrà comprare solo cose o libri creepy che fanno parte o meno della mia tbl però che voglio leggere durante questo periodo e che mi ispirano quindi direi senza ulteriori ingugi di iniziare per chi se non lo sapesse ora mettere in sovraimpressione la mia lista di amazon stiamo registrando quindi siamo su amazon questa qui è la schermata iniziale adesso andrò ovviamente su quella che è la mia wishlist io ho diverse wishlist come potete vedere ho by con cose di generali fan quelli che mi interessano che è più una wishlist personale la parte completa più natale se mi chiedono di fare un regalo e poi varie liste c'è anche quella per la casa tipo roba così però visto che i libri che voglio di più sono sulla lista compleanno più natale io direi di iniziare da questa lista qui dove voglio mettere libri in ordine in prezzo crescente in modo da poter vedere una brava poraccia quelli che costano di meno direi iniziare il primo che mi trovo davanti sono le edizioni clear card di sakura però devo finire prima di leggere l'edizione insomma normale e poi le recupererò e renzi la strega che pure mi interessa però appunto non lo so che ragazzi tutto mi aspettavo tranne che ci fosse higher than I'd qui ora lo aggiungiamo al carrello perché a 6 euro e 74 di solito questo libro costa 22 25 euro quindi bitch questo libro è un wishlist della vita che io non riuscivo a comprare perché ero povera bene bene poi c'è un delitto avrà luogo questo qua però penso sia il kindle io vorrei la copertina flessibile però la versione kindle ho messo la copertina flessibile perché questo libro in realtà è di miss marple io ho letto solo c'è un cadavere in biblioteca di miss marple e non mi aveva conquistato però davide mi dice sempre che questo qui è meraviglioso che miss marple è la sua preferita quindi oltre a qualcosa perché sicuramente prenderò qualcosa di puoro sempre sotto consiglio di davide volevo prendere anche un delitto avrà luogo perché appunto è uno dei suoi preferiti quindi lo aggiungiamo al carrello un altro libro che volevo comprare sicuramente che adesso lo cerchiamo era home before the dark di riley seeker che è stato il mio thriller preferito dell'anno quindi volevo comprarlo le vai a tende è sceso di tantissimo di prezzo questo libro qui però non è molto tema halloween per adesso ci siamo perché harold knight anche se non è super halloween diciamo che c'è è un delitto avrà luogo più più halloween di miss marple e fuori non ce ne sono anche if we were billeins billeins mi ispira un botto è l'eccesso del 400 però vediamo in forze anzi lo mettiamo nel carrello e poi vediamo facciamo la cernina dopo ammasco shadows è il terzo libro ma io non ho ancora letto il secondo quindi per adesso no e poi ci sono tutti i miei milioni di agatha christie in realtà penso che quello che vorrei comprare non è qui perché io volevo quello con la copertina di halloween mi pare che si intitoli la strage degli innocenti adesso lo andiamo a vedere perché c'è proprio la copertina di halloween my best friend exorcism anche mi ispira un botto però volevo leggere prima the saturn's book club to slay vampires di gary hendrix quindi per adesso no vorrei prendere anche un fanco però un fanco me lo giustificate c'entra wallowin vabbè madame l'olè mio le regole me le faccio da sola ho 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 poi abbiamo graphic novel a good girls guide to murder sì ma mi è sceso live cioè l'ho letto già quindi per il momento non è tra le mie più grandi priorità classici ne ho presi anche troppi a deadly education c'è questa edizione qui ma io vorrei quella nera e vabbè sono una persona malata poi abbiamo kingdom of the wicked che io non ho capito quando esce per chi c'è chi lo porta che esce il 27 ottobre e io sapevo che sarebbe uscito a novembre quindi non lo so per adesso amore mio the winner's curse della gioia di mirko non lo prenderemo oggi the damned the beautiful e mr mine dovrei prendere anche dovrei prendere anche heart stop per volume 1 però non fa halloween cioè non può esserci in questo haul arriverà il suo momento ma non è questo rattata a questo libro non fiction molto figo di una youtube perché seguo che fa la mortis che sarebbe il becchino e però appunto lei ha scritto questo libro dove parla della morte in tutti un po i posti del mondo come gestita e secondo me è super interessante poi c'è vicius in questa edizione che aspettate che devo mettere in carica il computer per cercare di mandare avanti questo video perché non ci piace se non ci sono i problemi poi abbiamo the infernal devices che non c'entra niente con allo quindi andiamo avanti così come the winner's crime così come il cd dei one ok rock se non l'avete ancora fatto ascoltate i one ok rock questo è il libro che mi ispirava tanto però 19 euro considerando che costa 22 home before dark e dark non sono molto sicura mi fa anche del pokémon sono saliti un botto di prezzo ultimamente ma perché vabbè last time alive ci sta però non l'ho ancora letto quindi preferisco home before dark tutti i pokémon che costano un rene per capoccia lock every door ecco qui home before dark e lo compriamo perché questo è tantissimo in realtà tutti i libri di joel dicker anche li vorrei tantissimo però al momento volevo di più questo qui ma morirei per the house in just really anzi questo qua mi ispira da morire però questo vuol dire che non ci sono così come anche le witchling the girl però questo qua esce l'anno prossimo sì gli altri 23 euro è diverso ma siamo pazzi vabbè the sundown motel vedi tutti i libri che mi piacciono un sacco costano l'ira di dio io non so per quale motivo quindi non li compro ovviamente avrei comprato volentieri il cofanetto di never night però già meglio di no almeno al momento in realtà non l'ho comprato perché non è disponibile solo per questo motivo quindi per adesso ci siamo visti questo e non c'era il libro di caracristi che dicevo di volere quindi adesso lo troviamo la strage degli innocenti poro eccolo qua penso sia quello con la copertina di halloween sì eccolo qui potete vedere aspetta volevo farvi vedere la copertina perché non me la da eccolo che ha la zucca insomma che ci sta come cosa di halloween quindi prendiamo questo quindi al momento siamo a un totale di 61 euro però mi volevo spendere meno io rimuoverei if we were with villain e yes direi che con il resto ci siamo e su amazon io non so perché questo potrebbe essere un doppione vabbè ci chiamo questi qui parò e la strage degli innocenti che dovrebbe essere un libro appunto su cuore ammettato allo in presumo home before dark di rani sigar 5 stelline lo avevo adorato un delito avrà luogo miss marple non ne so niente e harrow the night che costa 6 euro e 74 non mi sarebbe capitato mai più quindi andiamo avanti con questo qui ora faccio picciare gli ordini e tutto quanto ok ragazzi questi sono stati i miei acquisti insieme questo è stato il mio processo mentale questa volta sono andata abbastanza sul sicuro perché sapevo che volevo prendere dei thriller e dei misteri quindi me la sono giocata molto easy peasy e poi c'è stata la botta di sedere enorme di trovare harrow the night a un brazzo così basso adesso aspettiamo che queste cose ci arrivino aspetta prima fatemi chiudere la registrazione se non si salva nulla e aspettiamo che questi libri arrivino e noi ci rivediamo per la parte unboxing siamo qui con il grande trofeo non vedo l'ora di aprire il pacco con la grande pecunia la gioia più grande è qui dentro quindi adesso lo apriamo con le forbici distrutte che ho devo comprare un nuovo paio di forbici alla velocità della luce perché ho da studiare ah gli esami gli esami che io odio ma che devo passare ok ecco qui la scasola potete vedere già il primo non potrebbero di avervi in mano anche perché costa fior di soldi ecco qua i miei nuovi bambini abbiamo home before dark di riley seeger è bellissimo ma 22 euro questo libro se non fosse che l'ho amato così tanto probabilmente non l'avrei comprato però è bello 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 molto semplice ira sulla mia mensola di thriller come praticamente tutto quello che qui dentro e mi piace un botto anche la copertina con questo lampadario sul verde super saturato che sembra quasi uno di quei filmati vecchi di esposizione horror e adoro profondamente quindi questo libro più costoso ma non è il libro più atteso perché quello è stato harrow the night la botta dei culo di trovare sto libro a 6 7 euro non potete capirla perché o mio dio ma quanto è bello dentro raga raga ciao poveri ciao poveri uno dei libri più belli del 2020 io dovevo assolutamente comprarlo dopo aver preso gideon ma questi libri costano sempre 22 25 anche 27 euro sta botta per 24 ore non so perché è andato 7 euro io non potevo lasciarlo lì cioè raga guardatelo io sto sotto harrow come se non ci fosse un domani tra harrow e gideon non so chi voglia sposare di più perché lei è tipo tutto quello che desideri una donna fatta persona ma gideon è tutta la personalità che cerco io che cerco quello lo so che cerco che cerco un deficiente gideon è deficiente mi ci rivedo ma lo stesso tempo sono un sacco attratta anche da gire non quindi solo lì della serie due donne prima di tutto e poi prendetemi ok niente questo sarà infatti costa 36 dollari 50 canadesi voglia ma guardate quanto grazie è bello 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 è della toro quindi tutti un po i libri della toro costano un sacco di soldi ma we stan e sì questo mese esce in italiano giro la nona lo lo comprerò certo oramai collezionerò tutte le edizioni no perché mi sono rassegnata al fatto che non ho le edizioni dell'illumicrate quindi sarà si deve sta buona però l'avrei voluto tanto però sì ecco qui e ora passiamo ai due libri in brossura perché sarà in banale e compra sempre le stesse cose che sono due libri di agatristi che sono un libro di miss marple è un libro di povero ovviamente avete visti mentre li compravano è che c'è da lì tanto sono le edizioni che cerco io che cerco di recuperare questo qui lo voglio leggere da halloween perché la strage degli innocenti ma c'è una zucca e dei pipistalli no però una zucca e color arancione e quindi sarà si illude che questo sia a te halloween e questo qui mi sono consigliato tantissimo la davide che appunto dice che uno dei suoi preferiti di miss marple quindi l'ho preso e ora io mi sono resa conto che anche questi vanno sulla mensola dei thriller e non c'è spazio sulla mensola dei thriller a ridiamo insieme perché che che sposto gesù vedi non perché non faccio il riorganismo e bookshelf più spesso perché tanto li dovrei fare ogni due giorni e la mia vita un disastro comunque sì questo è tutto per quanto riguarda la lol la porzione home del mio video acquisti insieme io spero vi sia piaciuto è molto disagiato perché poi alla fine a tema halloween più arro la nona che era 7 euro non potevo non comprarlo e sì niente mi diverte tantissimo farli quindi fatemi sapere quali tre libri che ho acquistato vi ispira di più se anche voi avete preso harola nona 7 euro e niente che libri leggerete ad halloween uscirà un video con dei consigli molto presto e sì il video finisce qui voi potete trovare giù nell'infobox tutti i link dove potete acquistare i libri che vi ho fatto vedere direttamente da amazon e più tutti i link ai miei altri social network e se siete arrivati fino a qui a guardare commentate con l'emoji di ogni volta poi devo del maiale così cioè devo trovare un emoji solo che non me ne ricordo moltissime quindi vado su quelle super banali e niente così siamo membri del club segreto di orange dinosaur roar il video finisce qui e noi ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao